Le cinque piaghe della Santa Chiesa, questo è il titolo completo dell'opera di Antonio Rosmini di cui ci occuperemo oggi. Le cinque piaghe, è inutile dire, sono le cinque piaghe della crocifissione, di Cristo in croce, e infatti ciascuna piaga, come viene presentata in quest'opera, fa riferimento ad una delle piaghe di Cristo, della mano destra, della mano sinistra, del piede destro, del piede sinistro e del costato di Cristo. Si tratta già di un'immagine potente, anche se non nuova. Esisteva una tradizione anche di predicazione precedente a Rosmini, in cui il riferimento è anche devozione, in cui il riferimento alle piaghe di Cristo era molto rimarcato. La novità di Rosmini è che le piaghe di Cristo si trasformano nelle piaghe della Chiesa, è dunque la Chiesa ad essere piagata. Ha delle ferite la Chiesa. Il punto di partenza di quest'opera è dunque che la Chiesa sia un corpo con delle ferite, delle ferite che devono essere curate, se possibile devono essere curate. Il sottotitolo dell'opera è trattato dedicato al clero cattolico, quindi si tratta di un'opera che, almeno nell'intenzione iniziale di Rosmini, ha come suo possibile pubblico, destinatario, il clero cattolico. È dunque uno scritto che, secondo Rosmini, intende soprattutto rivolgersi ad una parte della Chiesa, che è quella costituita dal clero, che d'altra parte, soprattutto all'epoca di Rosmini, ha nell'organizzazione, nella struttura, nell'istituzione ecclesiastica, un ruolo particolare, un peso particolare. Senza entrare dettagliatamente nei contenuti dell'opera, credo che sia tuttavia opportuno, oggi a distanza di così tanti anni dal momento in cui fu pubblicata, riconsiderare come si è costruita quest'opera, perché si tratta di un scritto che ha una sua storia interna, cioè pur essendo stata concepita unitariamente, ha avuto poi diversi momenti nei quali è stata stesa materialmente, almeno in parte, e soprattutto ha avuto una sua storia editoriale, diremmo noi con le nostre parole, cioè una storia di uscita al pubblico, quindi di messa a disposizione di un pubblico più o meno vasto, che si è intrecciato a questa storia editoriale delle Cinque Piaghe, si è intrecciata strettamente con le vicende delle epoche storiche in cui quest'opera, appunto, ha visto la luce. Il professor Krin, che all'inizio presentando questo nostro incontro, ha già ricordato che l'opera era stata concepita da parte di una Rosmini relativamente giovane, nel 1832, Rosmini era del 1797, era nato a Rovereto e quindi aveva allora 35 anni. Ed era stata concepita, è scritta quasi di getto all'improvviso durante un periodo in cui Rosmini era ospite di una villa nel Padovano, che evidentemente era particolarmente adatta anche alle sue riflessioni spirituali, perché si tratta, come credo verrà detto anche da altri, di un'opera che ha un forte tono spirituale. Il 32 è già stato ricordato, è un anno in cui in Europa stanno accadendo o sono appena accaduti i fatti rilevanti, la rivoluzione in Francia, poi in molti rivoluzionari in Italia del 1831. La prima condanna delle teorie sostenute in Francia dall'Avenir, questo giornale democratico di ispirazione cristiana, di cui è direttore la batte francese Félicité de la Ménée, che incomincia a destare le preoccupazioni della Santa Sede per le idee considerate allora molto ardite. E sul soglio pontificio Gregorio XVI, che è una papa di cui, con il quale Rosmini ha dei rapporti personali, aveva avuto prima che ascendesse al soglio pontificio dei rapporti personali, ma che era in un certo senso anche stretto da una situazione complessiva del panorama politico, storico, europeo, che lo metteva su una posizione, diciamo, difensiva, molto guardinga nei riguardi delle fermenti innovatori che stavano emergendo anche nel corpo della Chiesa. Rosmini finisce poi di scrivere quest'opera nella 33, come già stato ricordato, all'inizio del 33, e la chiude in un cassetto. Questo lo dice lui stesso in una successiva introduzione o presentazione dell'opera che verrà stesa nel momento della sua pubblicazione. Finora, quindi, ci troviamo di fronte ad uno scritto di Rosmini, ma che nessuno conosce. E infatti pochissime tracce si hanno di quest'opera, per molti anni. Rosmini non ritiene giunto il momento, l'occasione, l'opportunità di metterla alla luce, di renderla pubblica. La chiude, dunque, in un cassetto e la lascia dormire. Nel frattempo, certamente non gli mancavano le occupazioni. Aveva da poco pubblicato il suo primo e principale, iniziale, grande opera filosofica, Nuovo saggio sulle origini delle idee. Stava lavorando a opere di carattere soprattutto filosofico. Inoltre, proprio in quello stesso periodo, stava mettendo le basi dell'istituto religioso di cui fu, come occorre anche ricordare, il fondatore, e cioè l'istituto della carità. Quindi, questa prima stesura dell'opera resta, diciamo, celata al pubblico. La conosce Rosmini e pochissimi suoi intimi. Fino a quando, nel 1946, in seguito all'ascesa al soglio pontificio di Papa Mastai Ferretti, che prende il nome di Pio IX, sembra che una nuova epoca si apra anche per la storia della Chiesa, della Chiesa universale e del papato in particolare. Rosmini, quindi, prende la sua opera quasi dimenticata in questo cassetto, ci rimette le mani, come lui stesso racconta, riscrive una parte del suo lavoro, in particolare l'ultima piaga, la riscrive quasi interamente, che era quella dedicata all'abuso dei beni ecclesiastici. Tema quanto mai delicato, perché una delle accuse e delle ragioni di critica più note e diffuse nei riguardi della Chiesa era anche quella, tra le altre e tra le molte, se vogliamo, era anche quella di aver favorito un uso improprio, lontano dalle originarie intenzioni, dei beni materiali, economici della Chiesa. Forse vale la pena di dire a questo punto quali erano le altre quattro piaghe, avendo ricordato che l'ultima venne rielaborata e rivista su una base che era però quella dell'iniziale stesura del 1932, quella riguardante i beni ecclesiatici. Le altre piaghe che Rosmini riteneva di indicare ai suoi possibili futuri, futuri, probabili lettori, erano innanzitutto la divisione del popolo dal clero nel pubblico culto, e cioè potremmo dire la separazione nei riti, nella ritualità e nel culto cattolico del clero dal popolo, era la insufficiente educazione e cultura del clero cattolico, era la divisione dei vescovi, che era la piaga in un certo senso centrale, cioè quella del costato, che corrispondeva alla piaga del costato di Cristo, ed era infine la elezione dei vescovi abbandonata ai poteri laicali, come li chiamava Rosmini, e cioè alla nomina dei vescovi affidata prevalentemente nel sistema europeo ai signori, ai principi. Ricordo che all'epoca infatti nelle principali nazioni europee la nomina dei vescovi era ancora una particolarità controllata, diciamo in larga misura, dal potere politico dei sovrani. Come si vede sono tutti argomenti molto delicati, complessi, anche se di diversa natura, che tuttavia Rosmini aveva tenuto insieme in questa visione della chiesa piagata, e cioè ferita, in suoi punti che Rosmini riteneva particolarmente delicati e sui quali riteneva fosse anche opportuno apprestare dei rimedi e suggerire delle cure. Ritornato sulla sua opera, Rosmini attese ancora qualche tempo prima di darla alle stampe, e cioè farla passare da quel famoso cassetto da cui l'aveva tirata fuori alla pubblicazione vera e propria. E qui si apre una vicenda che da sola meriterebbe, credo, un po' di considerazioni, cercherò di riassumerla molto brevemente, perché è tuttavia una vicenda dalla quale ha dipeso considerevolmente la fortuna successiva dell'opera. decide di stamparla all'indomani della rivoluzione del 48. Ricordo che 1848 è l'anno contrassegnato all'inizio, tra febbraio e marzo, dalla concessione degli statuti da parte di quattro stati che facevano parte allora dell'Italia, e cioè il regno di Sardegna, la grande casa di Toscana, il regno delle due Sicilie e lo Stato pontificio, la concessione dunque degli statuti, a cui aveva fatto seguito tuttavia la vicenda aperta dalle cinque giornate di Milano, siamo, come tutti sappiamo, nel marzo del 1848, e la cacciata degli austriaci. L'intervento del Piemonte e dello Stato di Sardegna contro l'Austria è l'inizio della prima guerra di indipendenza. In questo contesto Rosmini si reca di corsa, diciamo così, a Milano, si rende conto che la situazione è particolarmente calda, ritiene erroneamente, ma anche i grandi santi o beati commettono degli errori di valutazione, che sia un momento adatto per finalmente rendere pubblico i suoi pensieri che risalivano a ben 16 anni prima. L'aspetto interessante di questa vicenda è che decide di pubblicare questa opera non a Milano e non col proprio nome, ma anonima e a Lugano. Naturalmente c'è da chiedersi perché la pubblica anonima e soprattutto perché la pubblica a Lugano. Non ho una risposta, credo che nessuno ce l'abbia precisa in questo senso. Certo che forse un ulteriore elemento di prudenza induceva Rosmini a non disvelare immediatamente la paternità del proprio lavoro. L'altro aspetto da ricordare è che quasi contemporaneamente alla pubblicazione delle Cinque Piaghe avviene la pubblicazione di una seconda opera di Rosmini intitolata La Costituzione secondo la giustizia sociale. C'erano certi collegamenti tra la prima e la seconda, anche se erano due opere di natura completamente diversa. C'erano tuttavia dei collegamenti. Rosmini ritiene di poter dare un contributo significativo allo sviluppo delle teorie costituzionali nel momento in cui si sta discutendo molto di Costituzioni. È vero che erano state già concesse le quattro Costituzioni che ho detto precedentemente da parte dei quattro Stati italiani, ma ancora era un argomento molto caldo, molto dibattuto quali dovessero essere i principi costituzionali da far emergere. E Rosmini fa una sua proposta nella Costituzione secondo la giustizia sociale. Le due opere escono anche la Costituzione secondo la giustizia sociale esce, questa però a Milano, pubblicata cioè da un editore milanese, esce anonima. è un anonimato del tutto parziale e destinato a durare pochissimo perché ben presto si capì e si seppe che l'autore era Antonio Rosmini, figura di spicco abbastanza ormai nota, conosciuto come grande studioso, grande filosofo cattolico, prete, stimato, fondatore di una congregazione religiosa, quindi il fatto che queste due opere vedano nella luce contemporaneamente anonime non toglie nulla al fatto che quasi subito si venne a sapere che le due opere erano state, avevano un unico autore e che questo autore era Rosmini. Una storia che ha diciamo degli aspetti gialli verrebbe quasi da dire che ha tuttavia un seguito perché appena uscite le due opere furono sottoposte a critiche più o meno forti ma certo piuttosto notevoli che avevano una loro una certa grado di radicalità tanto più in quanto la situazione complessiva della situazione storica diciamo politica del 48 si stava evolvendo in forme che erano allora imprevedibili da molti punti di vista nell'estate c'era stata la sconfitta dell'esercito piemontese gli austriaci erano rientrati a Milano in un certo senso la prima guerra di indipendenza quella che nella nostra tradizione storica passa giustamente sotto questo nome si avviava ad una conclusione negativa ma a parte questo aspetto c'era l'altro punto l'altra faccia di una realtà da considerare che era data dalla situazione critica in cui si era trovato Pio IX il Papa Pio IX in conseguenza dei movimenti delle sommosse romane che avevano portato nell'estate alla uccisione del suo primo ministro Pellegrino Rossi che era un costituzionalista tra l'altro un esperto di costituzioni con la morte di Pellegrino Rossi anche l'evoluzione dello Stato Pontificio aveva preso una brutta piega rispetto alle speranze di innovazione che pure Rosmini aveva espresso oltretutto Pio IX aveva deciso di lasciare Roma che si era rifugiata nella fortezza di Gaeta in territorio che era fuori dal territorio dello Stato Pontificio cioè nel regno delle due Sicilie e a Gaeta Rosmini lo aveva seguito occorre tenere presente tutta questa serie di riferimenti per capire la cattiva sorte che ebbero poi le Cinque Piaghe perché a parte i dubbi che molte delle proposte di Rosmini contenute nelle Cinque Piaghe già suscitavano in influenti ambienti ecclesiastici il fatto che l'opera fosse uscita insieme ad un'opera che riguardava la Costituzione di tipo quindi che potremmo definire costituzionalista che quindi i loro destini in un certo modo fossero collegati il fatto che Pio IX aveva tratto da tutta questa vicenda che ricordo si era poi conclusa all'inizio del 49 con la proclamazione della Repubblica Romana e la dichiarazione della caduta della fine del potere temporale dei Papi in questo contesto quindi attraversato da grandi conflitti e diciamo pure da tensioni rilevanti che erano di natura sì politica ma che toccavano aspetti essenziali dell'ordinamento ecclesiastico incominciando dalla situazione del suo vertice il Papato era iniziata una serie le critiche a cui facevo riferimento si erano tradotte in più precisi appunti che venivano fatti all'opera che presentava effettivamente elementi di novità tali che difficilmente potevano essere lasciati passare nella silenzio c'erano vari aspetti dell'opera su cui si erano appuntate le osservazioni critiche dei suoi oppositori che avevano udienza e crescente udienza presso Pio IX che inizialmente era molto ben disposto nei riguardi di Rosmini quando Rosmini era andato a Roma durante l'estate nell'estate del 48 tra l'altro aveva un incarico ufficiale da parte del governo piemontese presso il Papato allora Rosmini risiedeva quasi stabilmente a Stresa anche se come ho detto si era recato per un breve periodo a Milano in quell'epoca Pio IX aveva addirittura pensato a Rosmini come un possibile suo segretario di Stato cioè la principale autorità almeno verso l'esterno verso il mondo verso i rapporti tra la Santa Sede e il complesso della Chiesa ma soprattutto dei riguardi degli Stati quindi un compito molto rilevante poteva essere in teoria fidato a Rosmini ma tutto questo era stato come ho detto cancellato e anche questa carica di fiducia che legava Pio IX a Rosmini era stato cancellato dalle vicende che avevano colpito lo Stato Pontificio e il Papato in quanto tale in conseguenza di ciò le critiche che già serpeggiavano nei riguardi dell'opera erano aumentate di intensità dicevo che queste critiche riguardavano vari aspetti ma ce n'era uno particolarmente che aveva un maggior peso ed era forse due uno che Rosmini si era pronunciato a favore di una maggiore partecipazione del popolo e cioè di quello che noi chiameremmo i laici al culto e aveva lasciato intravedere anche una delle ipotesi per esempio di una liturgia in lingua volgare intaccando e toccando un argomento allora delicatissimo che era invece il rigore della liturgia in lingua latina questo certamente era un aspetto che suscitava già un certo grado di difficoltà nella chiesa di allora l'altro di diversa natura presente nelle cinque piaghe riguardava il modo di elezione dei vescovi per ovviare ai disastri che secondo Rosmini erano venuti derivati alla chiesa cattolica dal fatto di aver abbandonato le elezioni dei vescovi nelle mani dei principi dei sovrani in pratica Rosmini aveva lanciato una proposta rifacendosi ad antiche pratiche ecclesiastiche della elezione dei vescovi a clero e popolo e cioè la compartecipazione del clero locale e delle popolazioni locali appartenenti alle diocesi nella scelta dei propri pastori si trattava di una proposta che Rosmini non formulava in termini stringenti e rigorosi ma che lasciava intravedere l'idea che comunque secondo Rosmini si dovesse pensare ad una espressione dell'autorità episcopale che fosse diciamo così filtrata attraverso la presenza dei fedeli e del clero della diocesi questo urtava contro un principio ritenuto allora inattaccabile e cioè che in ogni caso la scelta dei pastori e cioè dei vescovi dovesse essere riservata alla santa sede toccava cioè uno degli elementi cardinali allora soprattutto del rapporto tra il potere pontificio e il potere dei vescovi Rosmini non non si illudeva certamente non immaginava delle elezioni che potremmo definire con le nostre parole di tipo democratico o era lontana dalla sua immaginazione qualcosa del genere desiderava soprattutto che ci fosse si istituisse un rapporto diretto anche di fiducia tra coloro che erano destinati a ricoprire le cate trepiscopali e il popolo su cui gli vescovi avrebbero dovuto esercitare questa autorità e tuttavia fu facile per gli avversari di Rosmini dire che la sua proposta portava la democrazia dentro la chiesa cattolica ora all'epoca parlare di democrazia già la parola democrazia suonava molto negativamente in cospicui e nettamente prevalenti ambienti ecclesiatici l'idea poi che addirittura la istituzione ecclesiastica potesse essere turbata da un principio di designazione dell'autorità che veniva in un certo modo fatta risalire al popolo comunque dal basso sia pure con tutte le cautele del caso questo fu considerato inaccettabile e su questo punto insieme ad altri che non sto ora su cui non mi soffermo ma che decisamente secondari fu portato un attacco a fondo nei riguardi di Rosmini tanto più che aveva anche commesso un'ingenuità il buon Antonio Rosmini e cioè quello che nella Costituzione secondo la giustizia sociale di cui ho parlato precedentemente faceva entrare tra gli articoli costituzionali riguardanti quindi l'ordinamento politico degli stati il principio dell'elezione dei vescovi a clero e popolo si trattava di una diciamo di un'ingenuità certamente che lasciava intravedere anche la difficoltà per l'epoca di distinguere esattamente le competenze e le autorità delle istituzioni civili statali da quelle ecclesiastiche religiose ma che offrì diciamo un nuovo elemento e argomento agli avversari di Rosmini per sollecitarne la condanna che avvenne come è stato del resto ricordato dal professor Klinche nella primavera tarda primavera del 49 quando furono messe all'indice contemporaneamente queste due opere e cioè le cinque piaghe pur diversissime tra loro le cinque piaghe della Santa Chiesa e la Costituzione secondo la giustizia sociale vennero messe all'indice insieme ad altri due opere di altri due autori preti cattolici che allora guardati con un certo sospetto o con notevole sospetto molto diversi veramente da Rosmini ma che furono diciamo accomunati in un'unica sorte di condanna che fu il gesuita moderno opera famosa di Vincenzo Gioverti l'abate piemontese a tutti di noto e un discorso di un altro padre teatino che si chiamava Gioacchino Ventura in cui aveva sostenuto che la Chiesa poteva diciamo così essere conciliata con la democrazia da qui in avanti la vicenda delle cinque piaghe fu segnata da questa condanna continuò naturalmente ad avere una circolazione le cinque piaghe continuarono ad essere lette venivano commentate e molto anche utilizzate in molti sensi spesso travisandone completamente il significato originario ma diciamo da parte della istituzione ecclesiastica furono guardate come un'opera all'indice tanto più che nel frattempo nei riguardi di Rosmini non solo delle cinque piaghe veniva suscitata un'ondata di polemiche che ebbe poi un lungo proseguimento lungo tutto l'Ottocento che culminò con la condanna di un certo numero di proposizioni tratte dalle sue opere o che secondo gli autori erano tratte dalle sue opere questo avvenne negli anni 80 quando ormai Rosmini era morto da più di 30 anni probabilmente questa la storia esterna di questa opera sarebbe rimasta praticamente tale se non che nel 1966 quindi appena l'indomani della chiusura del concilio Vaticano II un vescovo rosminiano credo che allora non fosse ancora vescovo ma destinato a diventare poco dopo vescovo e verso il quale personalmente conservo un ricordo di grande affetto ed amicizia che si chiamava Clemente Riva era un rosminiano pubblicò una edizione una nuova edizione delle cinque piaghe in realtà non era propriamente una nuova edizione era una edizione delle cinque piaghe che Rosmini aveva rivisto in seguito alle prima che venissero condannate naturalmente con l'intenzione di pubblicarle diciamo così rimaneggiate per tener conto delle osservazioni alcune delle quali anche fondate che gli erano state fatte Monsignor Riva ebbe l'idea di pubblicare questa opera siamo questa revisione dell'opera siamo all'epoca del potificato di Paolo VI che fu infatti edita dalla Morcelliana con l'introduzione di Clemente Riva che diceva che quella non poteva essere considerata l'opera condannata nel 48 perché era un'opera diversa a dire la verità le correzioni che Rosmini aveva nel frattempo portato prima della condanna del giugno del 1848 erano relativamente modeste ma tuttavia diciamo questa argomentazione bastò per rendere l'opera per farla uscire diciamo così da questa sua condanna da questa situazione di opera condannata tant'è vero che uscì con il permesso ecclesiastico con il Neil Obstadt cioè diciamo non venne fatta valere nei suoi confronti venne pubblicata tra l'altro da un'editrice cattolica cui Paolo VI era particolarmente legato fin dalla giovinezza che si chiamava la morcelliana e quindi sia in conseguenza delle vicende del concilio vaticano secondo che aveva cambiato molte prospettive nella concezione stessa della chiesa sia in conseguenza di questo nuovo testo che veniva messo a disposizione la chiesa l'opera di Rosmini e le cinque piaghe ebbero diciamo così libertà di circolazione l'avevano già sostanzialmente ma non avevano più nessun tipo di vincolo di come poteva essere quello costituito dalla condanna del 48 da allora in avanti l'opera è stata ristampata molte volte da vari editori commentata letta e fortunata e ha avuto una sua fortuna che direi principalmente è legata sia alla novità e al significato delle proposte di riforma che Rosmini aveva abbozzato prima della metà dell'Ottocento sia in conseguenza del fatto che molte delle modi delle strutture diciamo interpretative mentali della cultura ecclesiastica del 1960 e 70 non erano evidentemente più quelle del 1830 o 40 e questo mutamento ci permette di capire come quest'opera abbia avuto una sua notevole considerevole fortuna postuma dopo cioè che addirittura direi dopo un secolo dalla sua pubblicazione vorrei fare un'ultima osservazione e chiudo cioè che per un lungo tempo ed è stato anche ricordato l'opera è stata considerata le cinque piaghe della chiesa come un'opera di riforma con una serie di proposte di riforma ora dal mio punto di vista questo è certamente vero Rosmini nel momento in cui denuncia le piaghe della chiesa le rende palesi le porta diciamo alla coscienza collettiva della chiesa suggerisce dà dei suggerimenti per una loro cura e tuttavia lo stesso Rosmini sembra anche da suoi appunti che non considerasse poi tanto le proposte di riforma come l'elemento più significativo di quest'opera bensì la indicazione delle piaghe intendo dire che quello che rende ancora i nostri occhi mi pare significativa è una lettura in se stessa molto che sollecita molto e da molti punti di vista quello che rende quest'opera un'opera così ricca anche di possibili interpretazioni odierne è data è forse data dalla individuazione delle piaghe e cioè la dallo sforzo del suo autore di indicare alcuni gangli alcuni aspetti apparentemente non centrali ma che collegati insieme costituiscono in realtà una situazione di malessere della chiesa che dovevano essere rimediati in una qualche misura e in qualche modo e quindi è diciamo piuttosto la diagnosi che non la cura quello che rende questa quest'opera oggi così interessante la diagnosi cioè l'analisi delle piaghe forse piuttosto che le medicine che Rosmini si proponeva di conferire al corpo della chiesa per guarire da queste sue stesse piaghe grazie 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 grazie